Il lavoro che non vedi vale backstage della CGL questa mattina a Montesilvano, una giornata importante verso i lavoratori del settore turistico spesso discriminati. Sì, è un settore poco valorizzato, intanto perché ovviamente è invisibile, perché noi siamo abituati appunto a stare in vacanza, anche qui vediamo tutte queste persone che sono in vacanza, ma poi non vediamo quelli che stanno nel frattempo pulendo le stanze, preparando magari il pranzo, la cena, la colazione. Un settore ovviamente molto disgregato e molto solo da questo punto di vista e quindi la Filcams quest'anno ha deciso di scendere in spiaggia, non in strada, proprio per dare un segnale di vicinanza a questi lavoratori che appunto vivono una condizione sia individuale come contrattualmente parlando, perché non tutti i contratti sono uguali per tutti, perché ci sono anche professionalità diverse e sia perché ovviamente è un contratto stagionale, quindi di per sé ovviamente a termine e quindi precario. Cosa si può fare in futuro per far sì che questi lavoratori possano avere dei contratti migliori? Allora io credo, adesso noi stiamo valutando di fare un'iniziativa a settembre, nella quale ovviamente convocare le istituzioni, perché noi crediamo che dobbiamo lanciare l'idea che è quella del bollino del turismo virtuoso, perché probabilmente se io potessi andare su TripAdvisor e dire se ho verificato o no che un lavoratore magari è in regola, potrebbe essere un valore aggiunto per l'impresa. Sappiamo ovviamente che ci sono imprese virtuose, quindi da questo punto di vista vogliamo che le aziende virtuose facciano da esempio e che non ci sia il solito dumping a chi risparmia di più sul lavoratore e quindi noi, ripeto, stiamo lavorando per questo tipo di iniziativa che potrebbe concludere la campagna estiva sul lavoro stagionale. Ovviamente le istituzioni comuni, se non la Regione, dovrebbero partecipare attivamente. Grazie.